Il video di S.A.R.S. Il video di S.A.R.S. Posso appagiarle qui? Sì, sì, vedi. S.A.R.S. Che legge? Ah, va bene. È un gran scrittore. Ma anche un gran progetto. S.A.R.S. Padre Nostro, che sei decenni, sia saluto e caldo a noi, e che è felice a noi. Hai già scopato? Eh? Perché non me l'hai detto prima? Perché avrei dovuto, scusa. Perché è mio fratello. Non sembrati tanto fratello. Eh, appunto. Un uomo aveva due figli. Dopo scuola andrei via come lui? No. No, io no. Non sono come lui. Non mi interessa. Come si sta bene qui? Strane voi cittadini, eh. Vi piace tanto la campagna, poi... Non ci restate mai.